Per convincere l'uomo dell'esistenza. Che cosa mi può far credere nell'intervento dei maestri immateriali? Commento. Non certo i fenomeni fisici. Anche l'avvento del sole all'inizio di ogni giorno è il fenomeno dei fenomeni, ma nel corso della storia ha convinto solo i pochi che già sentivano in sé la presenza dell'assoluto. Per convincere l'uomo dell'esistenza di qualcosa che vada al di là della sua vita attuale, i maestri possono soltanto additare gli elementi che facciano trovare all'uomo la propria comprensione. Grazie a tutti.